Ciao a tutti ragazzi, siamo Latex Royale e questo è il nostro nuovo video, oppure il nostro primo video dove andiamo in croce royale Adesso ho scritto saluto a Youtube perché sto facendo un video su Youtube Doniamo un po' di carta Scusate se ci scegno un po' le esatte cose, ma mi viene 17 insomma Bella raga Vi saluta Ok, sono rena 6 quindi per favore Non prendetemi in giro Settimana forte E ho scritto un po' Eccolo qua l'arricciere magico, una nuova carta Allora facciamo immediatamente una Bruce 2 Perché è in arena 1 Quindi io la faccio così Scusate se la mia faccia non si vede ma nel prossimo video la faremo Ma dai, c'è un po' Eccolo qua Esco Eccolo qua Ma Eccolo qua Eccolo qua C'è un po' questo è un po' dai dai io che ci vuole si allora sto mettendo un rado in fornale perchè lì c'è un golem mmmm ragazzi lì che credizio che il rado in fornale è un po' stupido ragazzi sono dei danni clamorosi comunque dai come volano lo stiamo per uccidera aspettate vale vedere se stiamo riuscendo un po' sono preso la torre questo non lo faccio a presto cosa possono fare 3 ci piazza le sgherri però lì c'è un mago cosa possono fare però un po' no cosa ho fatto ho pezzato così a casa non è possibile beh qua mettiamo direttamente un mago no ma dai le streghe no un esempio di non so che sia un vantaggio male per noi mi sto arrabbiando non c'è un po' 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 che è stupido poi l'hanno anche ripotenziato nel bilanciamento ooo aspetta c'è qualcos'altro e niente ragazzi se il video vi è piaciuto mettete like iscrivetevi al canale niente ragazzi ciao